Ciao. Ciao. Come stai? Bene, tu come stai? Piscina fantastica? Sì, è bella. Sei riuscito a dormire? Non ancora. E tu? No, non ancora. Quanto ti fermi? Sarò al bar per il resto della settimana. Beh, questa non è male. Esco con degli amici più tardi, se vuoi venire. Certo. Ok. Ci vediamo dopo. Ok. A dopo.